La città della resistenza Sono assolutamente inaccettabili queste aggressioni squadriste che vengono messe in campo anche recentemente nella nostra città, quindi i nostri studenti devono essere difesi da queste aggressioni che considero da sindaco di Napoli e da sindaco della città delle quattro giornate inaccettabili, come abbiamo detto più volte non c'è spazio in questa città per questo tipo di atteggiamenti, comportamenti e azioni. Questa è una città che ha sempre respinto questo e lo farà anche questa volta.